Qui alle mie spalle potete notare questo ponte, il famoso ponte del Seguino, il ponte è diventato il simbolo della lotta notave del 31 ottobre del 2005, perché su questo ponte fu in grado di bloccare praticamente una guarnigione completa tra poliziotti, carabinieri che volevano entrare nel nostro territorio. Su questo ponte restiamo fermi tutto il giorno, praticamente ci fu un ricambio da parte degli abitanti della valle e anche da parte delle forze del nord, comunque di lì non passa lo straniero e non passò nessuno. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.